In questo nuovo video andiamo a rivedere quelle che sono le mie operazioni a favore di dollaro americano, quindi lo short sul gold e lo short sulla sterlina, e quindi un grande riepilogo di queste mie due posizioni. Benvenuto in questo nuovo aggiornamento, io sono sempre Damiano Zito, Price Action Trader indipendente, membro collaboratore di questa community, e quella che vedi è Professione Trader, la rubrica dove settimanalmente racconto il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di Accademia in Airforex. Sono davanti al grafico dell'oro, mercato che sto monitorando per via del mio posizionamento short che ho in essere ormai da qualche giorno, qualche settimana, e insieme a questo mercato ho deciso anche di shortare il mercato della sterlina, quindi dollaro americano in acquisto e vendita di sterlina. Andiamo a vedere un po' quelle che sono le decisioni che ho preso direttamente dal mio diario di trading, quindi il diario di trading che, eccolo qui, mostra queste due operazioni all'interno del secondo trimestre di quest'anno, posizioni che ho aperto praticamente tra metà giugno e verso il finire di giugno, 21 giugno alla sterlina dollaro. Allora, sull'oro in realtà ho già dedicato qualche video su questa rubrica, se non l'avete vista, non l'hai vista, ti invito a vedere gli scorsi episodi, però facciamo un piccolo riepilogo. Io ho una posizione in essere dal prezzo di 2.310 con un rischio iniziale di 250 euro, con uno stop, quindi un livello di massimo investimento, 2.410 dollari per ancia, e che successivamente ho deciso di incrementare. Effettivamente, quindi, possiamo andare a vedere un po' quella che è la storia delle mie decisioni su questo mercato. La prima decisione è chiaramente la decisione di ingresso al mercato su questo asset, quindi sul gold, ingresso che ho fatto alle 13 del 13 giugno, più o meno alle 13, quindi con un ordine sell limit. Su questo mercato, poi dopo qualche giorno, il 24 giugno, ho deciso di fare un ulteriore incremento, aggiungendo allo stop, diciamo, al rischio, quindi alla zona dove io sto investendo, ulteriori 150 euro, portando quindi il rischio totale da 250 a 400 euro sul trade. Quindi il nuovo rischio su questo mercato diventa 400 euro, incrementando di 3.700 euro di nozionale. Possiamo vederlo un po', quindi, sul grafico nuovamente. Cosa succede? Quindi io sono entrato con un ordine sell limit su questa pinbar e poi, per quanto riguarda questo setup, sono entrato probabilmente o con un sell stop o at market, comunque a 2316, probabilmente, siccome sono entrato con un livello tondo, probabilmente sell stop. Sì, sell stop e il mio, quindi, investimento si trova su quest'area. Quindi, questa, diciamo, quella che vediamo in questo momento è la posizione aggregata, che si trova al momento sopra il mio prezzo di carico, che complessivamente è qui, 2312,37, e quindi lo stop, chiaramente. 2410 per entrambe le posizioni, 400 euro di rischio totale su questa posizione. Dal punto di vista settimanale, la scorsa settimana si è chiusa con, in bassa vola, con una settimana positiva, intenuta, chiaramente, di questa zona, non questa zona di minimi, non è ancora andato, diciamo, a, non è andato a fare falsa rottura, quindi sono rimasto in posizione, cioè non ha fatto un fake dei minimi precedenti, e questo mi ha, come dire, mi permette ancora di rimanere a mercato e quindi di valutare le dinamiche che si stanno creando e che si verranno eventualmente a creare su questo asset. Molto bene. Per quanto riguarda, quindi, il target, questa, diciamo, questa posizione, probabilmente adesso l'andrò a spostare, insomma, insieme, e su, diciamo, su una serie di considerazioni che ho fatto un po' nei giorni scorsi e stamattina, probabilmente andrò ad impostare un target più o meno sull'area T4, quindi poco sopra il T4, di questo, quindi il 211, 80, di questa grandissima falsa rottura che si nota sul settimanale, che è lo swing importante, che se dovesse andare un po' a, diciamo, a smollare questo mercato, andrei eventualmente, diciamo, ad accompagnarlo in zona 2.190. Non ho ancora spostato questi target, però lo possiamo fare anche adesso, quindi andrei più o meno a mettermi qui, 2.190 va più che bene, e quindi questa sarà, diciamo, la zona dove andrò a prendere profitto, qualora ci arrivasse in maniera, come dire, anche rapida, il mercato nel giro di uno o due giorni, mentre non sono davanti ai grafici, si andrà a chiudere la posizione, dovessi comunque fare delle dinamiche di falsa rottura su questa zona, andrò a chiudere anticipatamente, oppure se scendiamo più giù e per ragioni amministrative o di dinamica di prezzo deciderò di chiudere, chiuderò comunque prima questa posizione. In ogni caso ritengo che questa qui sia una zona che, diciamo, un livello dove posso sicuramente andare a chiudere tutto il mio trade. Passiamo ora invece alla sterlina, quindi sterlina dollaro sulla quale ho deciso di fare un ulteriore trade, diciamo, di incremento questa mattina. Eccola qui, quindi sterlina dollaro che questa mattina ho incrementato alla rottura di questa pinbar che si è venuta a creare ieri. Ritorno sul diario di trading per vedere un po', diciamo, ripercorrere un po' la storia delle decisioni su questo trade. sterlina dollaro che ho tradato il 21 giugno con un rischio, questa volta iniziale, di 180 euro, quindi un rischio inferiore rispetto, diciamo, ai 250 euro iniziali che utilizza solitamente sul mercato, anche perché in quel momento avevo già l'oro, ancora non avevo avuto conferme, insomma, attendevo qualcosa di più sostanzioso. Quindi dai primi 180 euro poi ho deciso di fare degli incrementi. e questi incrementi sono, in questo momento, sono racchiusi, no, in termini di nozionale e di rischio all'interno, no, di questo diario. Quindi ho fatto un primo ulteriore incremento di 4.000 euro di nozionale e un ulteriore incremento di 7.600 euro, che portano il rischio dai primi 180 euro a 250 euro e dai 250 euro con l'incremento di questa mattina a 400 euro. La storia delle decisioni, eccola qui, storia che, quindi, da un primo incremento, che era la FTW Power, che si era venuta a creare il 21 giugno, andiamola a vedere. Il 20 giugno si è venuta a creare praticamente il setup FTW Power, che è questa doppia candela, e quindi io entro praticamente il 21 giugno sulla rottura di questo setup, che era praticamente la rottura anche, diciamo, andava a confermare la rottura di un pavimento in area 1,27, il mercato ritraccia e successivamente, quando c'è stato un ulteriore conferma, quindi il ritorno verso la zona, diciamo, del mio entry, poco sopra, poco sotto, ho deciso di fare un ulteriore incremento. Infatti, se andiamo a vedere sempre il diario, eccolo qui, decision making, perdon, eccolo qui, il diario, il 26 di giugno, 14.45 circa, decido di portare il rischio da 180 a 250 euro. In questo caso, ho guardato un po' come si stava muovendo il mercato con una dinamica a 6 ore. Dinamica che mostrava, quindi, un ritorno in vola e rompe l'outside a 6 ore del lunedì 24 giugno. Quindi, andiamola a vedere. Eccolo qui. A 6 ore, quindi il mercato. Eccolo qui. Il mercato, quindi, io avevo fatto questo primo ingresso il 21 giugno, quindi ero entrato in questa zona qui, quindi zona di rottura. Il mercato ritraccia e il lunedì mattina va a creare praticamente questa mother bar. Qui c'è stata una piccola falsa rottura e successivamente, quindi, sono entrato il 26 giugno, praticamente, alla rottura di questa. Eccoci qua. Quindi, sono entrato poi complessivamente, quindi la posizione diventa, quindi la porta 1,56, o rollando la prima posizione direttamente sulla seconda, e eccola qui che ha 1,26,50, quindi mi ritrovo questa posizione che sul livello di 1,28,30 corrisponde a circa 250 euro di rischio. Per quanto riguarda, poi, le ulteriori decisioni che ho preso, andiamola a vedere. Parla della decisione di questa mattina, che è una decisione di incremento, quindi 2 luglio, proprio questa mattina, alle 9, incremento fino al 100% del rischio, perché ieri la giornata ha chiuso con una pinbar che è falsa a tutti i massimi precedenti, quindi va a ritestare nuovamente la zona di 1,27. Andiamola a vedere. Quindi, pinbar, eccola qui, la pinbar di ieri, ho deciso stamattina di fare un ingresso al mercato. Eccolo qui. Questo ulteriore ingresso, che quindi porta su, diciamo, come aggregato, diciamo, il livello di prezzo medio di carico, 1,26,43 circa. E per quanto riguarda, diciamo, lo stop, lo lascio ancora in area 1,28,30. Questa, comunque, è una dinamica decisamente molto bella come price action, quindi di conferma. Pinbar, che va a falsare tutti questi minimi, quindi diventa anche un'ottima falsa rottura, cioè tutti questi massimi, questo, 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 insomma, diversi massimi precedenti, ma soprattutto va a testare anche la zona di 1,27, che si vede più chiaramente una zona che il mercato, praticamente, ha lasciato qualche giorno fa, quando io ho già deciso di fare il primo ingresso, ha testato una prima volta, viene giù, ha testato una seconda volta, con un'ulteriore falsa rottura, e questa diventa effettivamente una zona di goodbye possibile per un'ulteriore continuazione dello short. Ora, la posizione in questo momento, vediamo che in questo momento si sta muovendo il mercato, sono le 3,10, fra un po' aprirà la sessione americana, vediamo come si andrà sempre a sviluppare questa dinamica, e sul settimanale possiamo vedere un po' quella che è stata la chiusura scorsa. Dopo questa pinbar, che è, diciamo, stato il master trigger, che mi ha iniziato a far pensare gli short su questo asset, c'è stata quindi una volatilità che via via si è andata a compressare, adesso con il fake out di questa pinbar di ieri, si è venuta a creare questo test su 1,27, che sul settimanale crea, diciamo, un ulteriore massimo, quindi rompe il massimo precedente, questo diventa uno swing low, e adesso vediamo se nelle prossime settimane effettivamente il mercato ha la debolezza di tornare sotto questi livelli, l'1,26 e l'1,30 sta diventando una piccola base di possibile, ecco qui, di spartiacque per la continuazione della discesa. sempre per quanto riguarda, diciamo, la sterline, quindi in termini di target, ragionando un po' su quelle che erano alcune confluenze di prezzo, anche dei ragionamenti abbiamo fatto anche in trading room, già anche questa mattina, ho deciso di spostare il mio target al momento su zona 1,25 e 10, questo è il setup master, che ha una, in realtà, una confluenza su zona 1,25 e 50, quindi andrò a fare attenzione su questi livelli qui, ma c'erano delle confluenze, anche ci sono delle confluenze da parte, diciamo, dell'ultima dinamica di prezzo, di questa pinbar che è molto, molto interessante, eccola qui, pinbar che si riporta, diciamo, a un T5, un 261,8 su quest'area qui, quindi al di sotto del T3 settimanale potrebbe effettivamente sporcare il T3 settimanale 25,40 e 25,50 e arrivare su questi livelli. Io avevo inizialmente impostato un limit in zona 1,25, poi guardando un po' alla figura settimanale, siamo, abbiamo sopra questo T3, abbiamo più o meno queste confluenze, ho deciso comunque al momento di impostare il limit, anche perché in questi giorni sarò meno davanti ai grafici, quindi preferisco, preferisco gestire in questo modo, quindi con un limit in piattaforma solitamente non lo faccio, gestisco man mano che il mercato si muove, però siccome sarò un po' lontano dai monitor, preferisco, preferisco inserire l'ordine, l'ordine in macchina. Bene, quindi, questa è la situazione sul mio diario, situazione che vede appunto questo short sul gold, short sulla sterlina, due trade che ho incrementato, due trade a pieno rischio, adesso tocca chiaramente gestire le posizioni, lasciare che il prezzo si muove e capire se ci sono nuove, nuove mosse da fare, nuove decisioni di riduzione dello stop, gestione, gestione attiva di questo stop intendo dire, uscite anticipate, eccetera, però abbiamo il tempo di ragionare. Io vi ringrazio, ti ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, questo è un aggiornamento un pochino più estivo, sono fuori dal mio solito, dal mio solito setup, spero sia apprezzato comunque questo aggiornamento e come al solito se c'è qualcosa che può essere, diciamo, può essere stata di aiuto, utile, ti invito, ti invito a lasciare un commento qui sotto, lasciare un mi piace, condividere questo video con qualche altro vostro amico, ma mi piace anche il confronto, quindi vi invito anche ai commenti per una discussione sana sotto al video. Come al solito, quindi io vi invito a continuare a guardare i video di questo canale, di questa rubrica e per chi continuerà a vederli, ci vediamo nella prossima e buon trading. Grazie, ciao.